Non hanno prodotto alcun risultato fino a questo momento le ricerche dei carabinieri La realizzazione del gas d'otto Larino Chieti potrebbe creare seri pericoli nel passaggio sul territorio del Basso Molise Sono in molti ad opporsi all'opera Campopase e Isernia si affrontano nell'anticipo di questo pomeriggio allo stadio di Contrada Selvapiana In serata nel basket femminile la Magnolia ospita l'Elite Roma Buon pomeriggio a tutti, iniziamo dalla cronaca e il nostro telegiornale Non hanno dato alcun esito fino ad adesso i posti di blocco messi in campo dalle forze dell'ordine sul territorio del Basso Molise E sulle vicine riviere di Puglia e Abruzzo Una banda di esperti in ladri ha portato via dalla Banca Puglia di via Martiri della Resistenza Termoli Un incente quantitativo di denaro, probabilmente oltre 100.000 euro Un colpo, quello del pomeriggio di ieri, studiato nei minimi particolari Dalle prime indagini sembra che i malviventi, tutti armati, avessero una chiara inflessione meridionale E ancora nessuna traccia di Rosa Buonanno L'82enne scomparsa da giovedì pomeriggio dalla sua abitazione di Vasto Girardi Dove viveva sola Le ricerche hanno avuto inizio intorno alle 19 di ieri sera Al momento si teme che la donna sia dispersa nei boschi dell'Alto Molise Al lavoro, il soccorso alpino e un elicottero della Polizia di Stato E sono stati ritrovati dai carabinieri forestari rifiuti speciali abbandonati Sul ciglio di una strada a Petacciato Erano presenti fogli di Ethernet, paletti di cemento e altri materiali Subito dopo il ritrovamento sono state avviate le indagini di verifica da parte delle forze dell'ordine Cambiamo argomento L'amministrazione provinciale di Iserni attende la disponibilità dei 2 milioni di euro Per la messa in sicurezza del viadotto sul torrente Sente Per avviare il bando di gara La struttura viaria collega a Belmonte del Sannio A Castiglione Messer Marino Nell'Alto Vastese Vediamo Prefetto Cinzia Guercio qui ad Agnone per parlare di viabilità Soprattutto della chiusura del ponte Sente Anello di congiunzione tra il Molise e l'Abruzzo Nelle settimane scorse è presentato il progetto dalla provincia di Isernia A che punto è la situazione? Guardi, il progetto è stato presentato dal presidente della provincia e dai suoi tecnici Chiaramente si è in attesa che la provincia entri nella disponibilità degli stanziamenti Dei famosi 2 milioni Ma è un problema puramente tecnico contabile Soltanto questo perché i soldi sono postati C'è tutto Ma ci sono dei tempi tecnici per l'assegnazione nei capitoli della provincia Il presidente è già pronto e sarà pronto con il bando di gara È chiaro che la provincia, ma qualsiasi ente Non può indire una gara se non ha la copertura finanziaria Però la presentazione del progetto 15 giorni prima rispetto al 30 gennaio Indica la volontà della provincia di venire incontro a quella che è una necessità evidente Io ho avuto modo di seguire tutti i vostri notiziari Tutte le interviste che sono fatte Ma soprattutto è importante dare un'informazione giusta Fermo restando le sacrosanze esigenze della cittadinanza Ma i tempi tecnici sono tempi tecnici Poi non possiamo sapere se bandita la gara ci vorrà un anno, un anno e mezzo Perché il problema degli appalti sappiamo che è un grande punto interrogativo Da intese con la provincia abbiamo capito che siamo a buon punto Se non ad un ottimo punto Si aspetta solamente di poter appaltare le opere su un progetto oramai esecutivo E' questo un grosso passo, un passo importantissimo per riallacciarci ai nostri cugini abruzzesi E quindi riuscire finalmente a ripristinare i rapporti interrotti bruscamente Successivamente alla chiusura del viadotto a seguito della tragedia del Ponte Morandi Incontro pubblico oggi pomeriggio a Montecilfone Per ribadire la contrarietà alla realizzazione del gasdotto Larino Chieti E del centro di stoccaggio che dovrebbe sorgere nella zona del torrente Sinarca E attraverso il Bosco Corundoli All'incontro sono stati invitati gli amministratori dei paesi del Basso Molise Inoltre è prevista la presenza dell'Onorevole di Liberi e Uguali Giuseppino Occhionero L'appuntamento delle ore 18 è stato organizzato dall'Associazione I Discoli del Sinarca E anche gli olivicoltori molissani manifesteranno giovedì 14 a Roma Pieno sostegno alla battaglia di tutela dell'olio extravergine d'oliva 100% nazionale Vediamo L'olivicoltura italiana va salvata con interventi strutturali importanti e non più rimandabili Di questo ne sono convinti anche gli olivicoltori molissani Che il prossimo 14 febbraio scenderanno in piazza a Roma con i gilè arancioni pugliesi Che da settimane manifestano il proprio dissenso Nella capitale rappresentanti delle organizzazioni di produttori più importanti della regione Siamo pronti a sostenere concretamente i nostri colleghi pugliesi perché la battaglia per la salvaguardia del nostro prodotto e di tutti hanno ribadito È arrivato il momento che la politica nazionale inserisca tra le sue priorità Quella del rilancio del prodotto simbolo dell'Italia e della dieta mediterranea nel mondo L'olio extravergine d'oliva 100% italiano Gli olivicoltori molissani sono preoccupati anche per l'avanzata continua dell'axilella che sta distruggendo gli oliveti pugliesi L'axilella è un problema nazionale ed europeo e come tale va affrontato Hanno dichiarato i presidenti delle organizzazioni di produttori molissane Nelle prossime settimane organizzeremo incontri di sensibilizzazioni sul tema Perché l'allerta deve essere massima anche qui È previsto lunedì 11 l'arrivo in Molise del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte In vista del suo arrivo dalle ore 7 fino al termine della visita sarà limitata a Campobasso La circolazione nei tratti interessati al passaggio del corteo istituzionale Divieto di Sosten via Mazzini, Piazza Pepe, Corso Vittorio Emanuele, via Palombo, via Marconi E il parcheggio di via Sant'Antonio Abate E parteciperanno anche il presidente della provincia di Campobasso Antonio Battista E il collega della provincia di Sernia Lorenzo Coglia All'assemblea congressuale del Lupi in programma martedì 12 a Roma In cui sarà eletto il nuovo presidente dell'Unione delle Provincie d'Italia E gli organismi del direttivo Far scoprire il Molise ai turisti di fuori regione e migliorare l'albergo diffuso In regione c'è una dotazione finanziaria pari a 16 milioni di euro Albergo diffuso, un incontro istituzionale previsto lunedì 11 febbraio Nei locali del santuario di Canneto a Roccavivara Oltre agli amministratori sono invitati tutti gli imprenditori Della provincia di Campobasso interessati al bando regionale sulla micro ricettività turistica L'avviso pubblico è denominato imprenditori del sistema albergo diffuso turismo rurale Titolari di strutture ricettive, case e appartamenti per le vacanze e affittacamere L'azione del governo regionale è volta a dare una spinta utile alla crescita del turismo sostenibile locale Ancora troppo debole nelle due province Attraverso una dotazione finanziaria pari a 16 milioni di euro da investire nell'offerta turistica e ricettiva di qualità Gli interventi dell'avviso riguardano la riconversione e la riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare molisano già esistente Il termine ultimo per le domande è il 15 marzo di quest'anno All'appuntamento di lunedì pomeriggio è prevista la presenza di tecnici regionali dell'assessore Arramo Vincenzo Cotugno Un contributo utile nell'intento di far scoprire le ricchezze paesaggistiche e artistiche delle due province E attrarre quanti più turisti da fuori regione E sull'albergo diffuso e micro ricettività opportunità di contributo a fondo perduto del 50% L'approfondimento è fissato lunedì 11 a Isernia nella sede della Camera di Commercio L'evento è stato promosso dall'agenzia di sviluppo locale GAL L'associazione Pietrangolare della Diocesi di Termolilarino parteciperà alla BIT di Milano In programma da domani al giorno 12 All'interno dello stand del Molise allestito dall'azienda autonoma di soggiorno e turismo Sarà presentato il progetto Ex Place per promuovere il territorio e favorire la scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale Offrendo possibilità di viaggi legati al turismo religioso Cerimonia di intitolazione nell'Aula Consiliare al Municipio di Scapoli Oggi pomeriggio al compianto amministratore Filiberto Ricci Persona sempre sensibile alle problematiche della collettività del piccolo paese della provincia di Isernia A seguire la messa in suffraggio nella chiesa di San Giorgio Martire E si è conclusa di Isernia la nuova seduta del Consiglio dei Ragazzi L'assessore Sonia De Toma soddisfatta del lavoro dei giovanissimi Ascolto e gioco sono le parole d'ordine Dopo la prima seduta di insediamento e la composizione del gruppo È tornato a riunirsi il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Isernia All'ordine del giorno per i più piccoli c'è stata l'importanza della valorizzazione dell'ambiente e territorio Attraverso attività mirate da predisporre al più presto Moderatrice degli incontri, l'assessore alle politiche educative Sonia De Toma Entusiasta del progetto in atto Prima seduta ufficiale, infatti il sindaco ha giurato C'è stata la composizione delle commissioni consigliari permanenti Che ricalcano un po' le commissioni consigliari del Consiglio Comunale degli Adulti Si occupano allo stesso modo di materie sempre riguardanti l'ambiente in cui viviamo Ma in questo caso in cui vivono i bambini Ambiente da cui forse i bambini vogliono avere delle risposte positive E quindi per questo lavoreranno con noi affinché si abbiano queste risposte E non si vada lontano da Isernia Io ho definito già tempo fa, già marzo 2017 Quando abbiamo proprio istituito questo Consiglio Comunale dei Ragazzi Ho definito i bambini come degli indicatori ambientali Perché sono loro, tramite loro noi potremmo riuscire a capire meglio i reali problemi Ovvero noi siamo più condizionati, loro sono più spontanei E quindi nella loro spontaneità sono coloro che il piccolo problema Lo riescono anche a risolvere ponendosi in meno problemi Enzo Filippetti ai sassofoni, Virginia Guidi alla voce Francesco Prode al pianoforte Oggi sul palco del Teatro Savoia di Campobasso In un concerto proposto al partire dalle 18.30 dall'Associazione Amici della Musica Al Teatro di Casacalenda invece domani a partire dalle ore 17 per la rassegna Molise Cinema Verrà presentata l'anteprima di Mamma più Mamma Il primo film della giovane regista molisana Carol Di Tommaso Interpretato da Linda Caridi e Maria Roveran La pellicola è una commedia sul desiderio di maternità di Carol e Ali Due ragazze che si amano Molte scene del film sono state girate nella zona di Guardia Alfiera e del Lago del Liscione Ed adesso spazio alle previsioni del tempo La gamma a batterie San Salvo, zona industriale O visita il sito lagammacommerciale.it Per vederci chiaro, ottica desiato in via Estonia 41A a San Salvo In via Acqua Santi Anni 5 a Trivento Tempo stabile oggi sul Molise Dalla sera deboli annuvolamenti solo sulla provincia di Isernia Le temperature sono previste tra i 3 gradi di Campobasso e la massima di 13 gradi a Termoli Ventilazione sud-occidentale, calmo il medio Adriatico Bel tempo e valori climatici in ulteriore aumento Domattina sulla regione, venti meridionali Alle 14.30 di oggi pomeriggio in programma l'anticipo di calcio di Serie D Campobasso-Isernia Partita valida per la settima giornata di ritorno nel Girone F Nell'Isernia ricordiamo gli ex Massimo Silva In panchina Armando Iaboni, Albino Fazio sul campo Il rosso-blu Intendono continuare nella striscia positiva Verso l'alta classifica Gli ospiti bianco-celesti sono invece invischiati dalla zona play-out All'andata terminò con il contestato successo del Campobasso Allora allenato da Bruno Mandragora Ancora calcio a partire dalle 19 di domani sera Avrà inizio a Campobasso nei locali del mercato coperto La notte rosso-blu Una festa per tutti i tifosi del lupo A pochi giorni dal centenario del sodalizio Sarà un'occasione per ritrovarsi insieme E rinsaldare il legame con i dirigenti del club E la prima squadra calcistica del capoluogo E come abbiamo detto nel calcio interregionale Siamo giunti alla settima giornata di ritorno Due giornate in meno in eccellenza e promozione Vediamo gli incontri in programma in questo fine settimana Avezzano, Matelica, Castelfidardo, San Giustese, Campobasso, Isernia, Montegiorgio, Recanatese, Ognonese, Francavilla, Pineto, Savignanese, Cesena, Sant'Arcangelo, Real Giulianova, Forlì, San Nicolò Notaresco, San Maurese, Vastese, Iesina Cesena in testa 60 punti, Matelica 52, San Nicolò Notaresco 41, San Giustese 40, Recanatese 39, Francavilla e Pineto a 37 punti, Montegiorgio 36, San Maurese 35, Campobasso 32 punti, Savignanese 31, Real Giulianova 29, Vastese, Iesina 28 punti, Forlì 25, Isernia, Vezzano 24 punti, Olimpia, Agnonese 23, Sant'Arcangelo, San Nicolò Notaresco 41, San Giustese 40, Recanatese 39, San Giustese 40, Recanatese 39, Francavilla e Pineto 37, Montegiorgio 36, San Maurese 35, San Maurese 35, San Giustese 40, San Giustese 40, Recanatese 39, Francavilla e Pineto 37, Montegiorgio 36, Montegiorgio 36 San Angelo 22, Castelfidardo chiude a 14 punti, in eccellenza la ventesima giornata, Matese, Roseto, Venafro, Acli e Campodipietra, Life, Gambatesa, Boiano, Sesto Campano, Frentania, Treppini, Matese, Olimpia, Riccia, Pietra, Montecorvino, Real, Guglionesi, Termoli, Vasto Girardi, Rocca, Sicura In promozione, sempre ventesima giornata, Biccari, Baranello, Campobasso 1919, Ripalimosani, Casteldisangro, Chieuti, Comprensorio, Vairano, Trivento, Donchi, Sagnone, Capriatese, Polisportivo, Fortore, Aurora, Aururi, Termoli 2016, Cliternina e Sant'Eliana, Spinete Passiamo adesso al calcio a 5, torna nel pomeriggio alle ore 16, il campionato nazionale di Serie B, il Cus Molise in casa al Panunimol di Campobasso sfiderà il Cus Ancona A Monticelli invece scenderanno in campo Futsal Ascoli contro la Ciaminade, la classifica del raggruppamento D non spegne le ambizioni di questi ultimi solo un punto di svantaggio dalla griglia playoff e riflettosi accesi sul Futsal Day domattina al Palunimol di Campobasso in campo le categorie sordienti e pulcini di calcio a 5 la primavera Ciaminade prenderà parte l'evento con circa 40 atleti, la manifestazione nasce per sviluppare l'attività tecnica attraverso partite su campi ridotti, giochi con la palla e sfide a tempo Cambiamo disciplina, rinnovato ed ospitale il Palavazieri del capologo di Regione che ospiterà le finali di Coppa Italia di Palacanestro femminile dal 22 al 24 marzo tra le migliori squadre in lotta per il titolo, le padrone di casa della Magnolia È la Magnolia Basket Campobasso ad organizzare la fase finale della Coppa Italia, manifestazione che si svolgerà al Palavazieri dal 22 al 24 marzo La presentazione ufficiale dell'evento è stata anche l'occasione per intervistare il coach Mimmo Sabatelli sulla squadra La scuola sta facendo un percorso importante, abbiamo fatto fino adesso qualcosa di incredibile C'è tanto ancora da lavorare perché poi alla fine ci saranno i playoff Però io come dico sempre alle mie ragazze dobbiamo pensare a partita dopo partita Al momento la classifica dice che siamo lì in testa, ci vogliamo restare ma sappiamo che il cammino è tanto lungo e difficile E che ogni domenica ognuno vorrà provare a battere la capolista Noi stiamo lavorando con serenità, con serietà e andiamo avanti Poi l'augurio è anche quello di poter toglierci qualche soddisfazione in questa Coppa Italia e ci proveremo Noi siamo in una struttura onestamente bella, è inutile, il vaziere è stato rimesso a nuovo È stato rifatto il parchele, le luci, quindi oggi come oggi ritengo che la nostra sia una struttura veramente molto molto bellina Una bomboniera, è normale che forse la capienza ci può creare un po' di difficoltà Perché questa squadra ha fatto innamorare una città intera e ogni domenica comunque dobbiamo lasciare fuori un po' di pubblico Per rispettare quelle che sono le capienze del palazzetto Quindi forse a livello di capienza qualcosina ci manca, però ritengo che abbiamo una struttura rimessa a nuovo, fantastica E che ci permette di fare un ottimo lavoro E appunto la Magnolia a Capobasso ospiterà alle 18.30 di oggi L'Elite Roma per la diciannovesima giornata del campionato di A2 femminile di Palacanestro Rosso Blu Molisane in vetta al Girone Sud con 34 punti, Romane a quota 10 L'incontro si disputerà sul parche dell'impianto di Via Svevo Siamo in chiusura, un mondo d'acqua per noi Il progetto natatorio promosso dal Comitato Paralimpico del Molise E dal Centro Sociale del Melograno di Larino Il corso sportivo verrà realizzato nella piscina La fabbrica del luoto di Termoli Il progetto prevede ogni martedì mattina dalle ore 10 alle 13 il trasporto e le lezioni in acqua E con questa notizia è veramente tutto Grazie per l'attenzione a risentirci alle prossime edizioni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.